Ciao gente, eccoci qui, attenzione, dopo tanto tempo, ma veramente tanto tempo, si porta di Evil Within 2, attenzione, dopo che ho fatto la serie del primo gioco, che mi è piaciuto veramente, assai, veramente tanto, che l'avevo detto che avrei giocato al 2 prima o poi, e adesso ho colto la occasione per giocare al 2 finalmente, dopo, non so quanti anni che l'ho, un po' di anni inti alla fine. Ho visto, mi ricordo, avevo visto qualche scena del 2, non mi sono spoilerato niente, non so niente, quindi sarà una blind, un blind playthrough, un gameplay alla blind, quindi tutto al momento è rigorosamente in difficile, che il mio motto sarà in difficile, difficile, non quitto, ma soprattutto finisco. E ormai sarà il mio motto, come sapete o chi non lo sa, porto tutto in difficile, giusto per farmi del male, ma anche per avere una certa sfida, un bel, quel piccolo brivido nel provare i giochi, ma soprattutto anche a finirli, eh. Non so però niente, zero, quindi godiamoci questo gioco fin dall'inizio. Ovviamente, per chi non si è guardato il primo, consiglio di guardare il primo, che ho fatto la serie, per non spoilerasse, perché quanto pare il secondo c'è qualcosina del primo, eh. Però non lo so questo, quindi lo vediamo. Qua abbiamo il livello di sopravvivenza, questa sopravvivenza è normale, inesperto, easy, no, assolutamente no. No, in cubo, non so cosa sia a cubo, sinceramente, però, perché ha una sfida di giocatori più esperti del genere super horror. Eh, consigliate ai giocatori che hanno apprezzato la difficoltà del primo capitolo della serie. No, 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 questo non sta succedendo. Ah, iniziamo letteralmente qua, perché non sapesse se Bastion è il nostro protagonista del primo, nel primo nella storia, c'aveva un po' raccontato del suo passato, quello che gli era successo per lo meno. Oh, Dio, Lily! Dammit! Lily, io sono qui! O dove sei? Oh, Dio, è stata una strada. Di che ci ribocchiamo qualcosa? Una banana? Quanto pare la sensibilità è molto buona all'inizio del primo? O? Offf! Dad, help! I'm coming, Lily! Just hold on! I'm here, Lily! I'm here! Lilli? Come on out! Lilli! Where are you? I'm here! Dad's here! You weren't here for me, Dad. You didn't save me! Kidman? Hello, Sebastian. It's been a long time. Three years. I've been trying to track you down for three years. And you thought you'd find me at the bottom of an empty bottle. Is that it? And why are you here now, dammit? You didn't find me because they didn't want you to. Calm down, Sebastian. You knew what was going to happen in that hospital, didn't you? What happened at Beacon is in the past. You need to forget it. You sound just like that psychologist that force shoved down my throat. But he didn't have answers. You do. You're going to tell me. About Mobius. I'm here because of this. I'm here because of this. Lily is still alive. Ah, lo so, Bigby. Giusto per medesimarmi. Oh! Nel gioco. Lily is dead. I read the police report. I was at her funeral. We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Why would I come out of the shadows just to lie to you? Lily is alive. But she's with us. But she's in danger. We need you to help save her. Save her? What have you done to her? Get your hands off me. Shit. Porca. I was hoping you'd come willingly, Sebastian. Eh, no! We need you. Lily needs you. A gente smithi dietro. You're awake. Good. Yeah. Great. Where are we? You're in one of our facilities. So this is the Almighty Mobius, huh? Be careful about what you say. You don't know how powerful they are. Right. So powerful they have to kidnap a washed-up ex-cop to help them. At least your terrible sense of humor is still intact. Enough for this bullshit. Where's Lily? Lily. Patience. All your answers are right here. No, eh? No. 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 Él Scoopo. Simple. Analytical Hospital часто SARS-uh. No. Ma abbiamo utilizzato il compagno di compagno per costruire un sistema di nuovamente migliorato. Ma cosa ha fatto con mia figlia? Immagina, milioni di mentali collegate insieme. La felicità per uno, è felicità per tutti. Questa macchina, questa miracola, potrebbe permettere alla nostra specie di ottenere la grandezza. Abbiamo bisogno di cominciare con una mente che era pure e clean enough per supportare thousands di personaggi. La mente di un innocento bambino. Lillie ha incontrato a quella macchina?! La tua figlia è molto speciale. La più stabile corpore della città che abbiamo testato. Grazie a lei, la nuova Stem ha fatto un successo di spazio. Bisogna l'anno. Un po' più di una settimana, Lillie si scontrava. Non parla di sentire segnali. Poi l'environmento Stem inizia a colapsare. Pensate che era solo un glitch tecnico. Un'esplosione facile. Quindi sentivamo una squadra di agenti Mobius a dentro. Ma poi abbiamo perduto il contatto con loro. E la Stem è inizia. Sì, mandate Castellanos qua. Posso scegliere, no? Ma porca di que... È già stato un incubo nel primo, no? Ritorno di nuovo l'incubo. Buona notizia, Sebastian. E, per favore, provate di collaborare con alcuni membri di team che potete trovare in là. Siamo che non ci confiattiscono, ma hanno gli stessi obiettivi che ti fanno. È tutto bene. Mi sono bene da me. Ricordate di chiamarmi nel momento in cui trovi Millie. so that we can begin the extraction process. I'll be out here for you. Then someone else will be in there for you. Bastardi! Non gliel'ha detto! No! Aiuto! Sti qua, veramente. Be careful in there, Sebastian. They're counting on you. Stem entry in three, two, one. Stemnel! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Il vecchio prototipo che è andato a male l'ha rifatto, no, eh, però. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie per il voto di confidenza, ma sono solo qui per trovare Willy C'è più info lì, devi guardarla prima di andare Non mi ricordo bene, dovrei vedere un po' la storia L'ho fatto per fare un esperimento, per il controllo, avere un'intelligenza umana che faccia controllare robe e altre, sottomettere a gente, quindi sono roba da pazzi sono Noi ecco Ottimo piano B L'hoffman, psicologia e surveillanza, questo potrebbe essere KG Sykes, attacca, ma almeno ha un'attività piccola O'Neill, non dovrebbe essere un'attività più piccola Non dovrebbe essere un'attività più piccola, se si sentono a tutti questi tecnici Unione, eh? Si sembrava che ogni città in U.S. Era un'attività in questo modo, per mantenere i testi calmi e rilassati Calmi e rilassati, l'opportunità di Beacon Ciò che succedono a Beacon è fuori dal nostro controllo Non sembra che hai molto controllo questa volta Guarda, non so cosa ti incontrerai in là Se hai bisogno di informazioni, mi suggerisci di parlare con alcuni dei locali Sì, canvassare l'area, proprio come mi hai parlato a KCPD Non ero mai un vero detektivo, Kidman E non sei più un detektivo, ma proviamo a fare un'attività, ok? Mannaggia, sta qua Ci ha nascosto la verità fin dall'inizio Eccomi Si comincia, gente Si comincia a entrare nel vivo del gioco Cioè, io se fossi qua non vorrei mai più ritornare dentro una roba del genere Pre-smartphone Di Sebastia Kidman, sei qui? Sempre Tu non mi hai parlato di Lily se la tua macchina non fuori a Fritz Io avrei avuto il resto della mia vita a morire a lei e tu non ti hai capito Io ho capito, ma non potrei dire nulla Mi hanno matato Non è sicuro che ti credo Cosa mi hai capito? Cosa mi hai capito? Per me manipulare Per me portare come un buon pochino Tu hai capito con me prima La nostra amizia è costruita su una capito Ok, ho capito E non ti sbaglio per sentire così Tu non sai mai come mi senti Se hai capito con la tua famiglia Non ho capito con la mia famiglia Non ho capito con la mia famiglia Solo due persone che mi hanno portato in questo mondo E mi hanno portato come un pochino Instead di una figlia Cosa mi ha piaciuto e perduto? E' quello che stai dicendo? Potremmo Almeno hai persone che hai capito con te Poi Non ho capito Grazie kiddie Non ho capito Non ho capito Non è cambiato ". Wow Ah Cosa. Una raccolta Solo come in Beacon Potrebbe essere una maniera Nulla Perché non mi sono capito Poi non potrebbero. Ma come in me nuove? Terminare di salvataggio io david io me devi evitin due ho salvato? si c'è nient'altro? eh troppo easy vediamo lo so che guardando qualche immagine che hanno fatto i trailer hanno messo certe robe mostruose a differenza del primo quindi sarà una bella batosta sarà oh no non hanno molto parlato del primo della storia del nostro protagonista solo a tratti guardando leggendo la lore un po' in giro un po' ma non ho mai spiegato così bene oh non lo so può Un'amiezzamente smarta e bellissima vizia. Perché non sarebbe bene? Voi qui, Myra. Tu stai lavorando molto molto. Ti fa fare delirioso. Sei sicuro che non stai arrivando a qualcosa? Va bene, iniziamo già Mica devo correre Non mi piace Eccola la stamina Ok Buona fisica Di tende, di tessuto No eh Attiva, disattiva torcia Non credo più se c'era la torcia Non è il capo squadra E' una della squadra Baker Baker Team leader straight through the head no, l'altra opzione, c'era una seconda opzione wow indaga ma sto indagando ahahah che s'hanno messo nel dipinto una che c'è il serlo con gli occhi sembra tipo un meme no? no qualcuno ha cercato di bloccare il camino o o o No, eh, guarda, io lo so, qua mi sbuca qualcuno prima o poi. Fire. Chi ha fatto questo deve aver piaciuto. Sembra uguale al B con l'ospedale. Sì. Sì. Chi è? Sì. Sì. A mano, a mano della famiglia Adams quella. Fotografata però. Ok, queste foto non mi piacciono però, queste no. Ricercatore della vita. Sì. 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 No, si è lunga da solo l'immagine. Qua la visuale si allunga da solo. C'è qualcosa qua dietro? No, eh sì. C'è una bella, ha una bella bocca abbastanza sporca. Ho già visto stiti lì rossi anche nel primo. No, 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 no What was that? Shit. Who the hell was that? Ok, almeno male, mi mandava più dall'altra parte. Ok, basta far così. Ah, ok. Ok. Ok, ok. E come sempre c'è uno con i superpoteri qua. Ok, ok. Ah, sti occhi. Perché dovrei aprire una porta insanguinata ve lo spiegate? Ok. Bene, bene, bene. Oh, per ora, vediamo, per ora sembra molto promettente, però non è ancora arrivato, come sempre, bello lungo. Beh, io comunque ogni tanto ricordo che c'è il link al server Discord, perché voi siete nel seggiornato con le prossime live e con le serie che porterò sul canale. Grazie.